Attenzione alle zanzare, parliamone. Vai sul mio profilo e clicca segui. Una delle patologie più pesanti, più antipatiche portate dalle zanzare è la filariosi cardiopolmonare o filaria. Un'altra è portata invece non dalla zanzara ma dai pappataci, cioè dai flebotomi che sono delle zanzarine più piccole, più gialle e che pungono specialmente all'alba al tramonto, è la leismagnosi. Essendo entrambe malattie molto pesanti, la cosa importante è tenere lontano questi infetti volanti dal vostro amico a quattro zampe. Con l'utilizzo di zanzariere per l'ingresso in casa ovviamente, piuttosto che antiparassitari che abbiano un effetto repellente, piuttosto che terapie specifiche. Oppure collari, pipette, spot on, spray all'olio di neem o geranio e citronella, anche in associazione. Però questo, unito anche alle paure delle nuove influenze che si stanno diffondendo, porta le persone a buttare giù qualunque tipo di disinfettante ambientale per evitare la replicazione delle zanzare. Attenzione, perché possono essere molto tossici anche questi per i nostri amici a quattro zampe. Ricordati di proteggere sempre il tuo cane controllando dove infila il suo naso e condividi questo video così lo fanno anche gli altri e magari evitano di mettere giù prodotti tossici.